Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato dalle vendite su tutti i mercati azionari globali, sta per iniziare il secondo semestre dell'anno, cosa fare? È l'ora di comprare o è l'ora di vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. La mia prima strategia è una strategia rialzo, quindi una carta verde sul cambio più scambiato al mondo che è appunto euro-dollaro, quindi operatività rialzo su euro-dollaro. Il livello di ingresso è un livello chiave di 1,05, uno stop loss molto stretto, quindi 50 pips a 1,045 e un target a 1,06 che rappresenta una resistenza molto importante. Su euro-dollaro diciamo che abbiamo questa visione rialzista appunto dopo diversi diversi mesi di ribasso, sembra che il supporto in area 1,04 sia abbastanza solido e quindi proviamo ad anticipare un'inversione di tendenza. Allora, sono curioso di sapere da te se hai qualche notizia fresca in termini di analisi di Cot Report per quanto riguarda l'euro. Ma guarda, è chiaramente una scelta, la scelta di andare a rialzo sull'euro non può che essere basata anche sull'analisi appunto dei volumi degli istituzionali e già da diverse settimane stiamo riscontrando un appetito all'acquisto da parte degli istituzionali dell'euro, motivo per cui appunto crediamo che il livello di 1,04 sia un buon supporto dove cominciare a comprare, che ricordo essere un livello che già nel lontano 2016 avevamo visto e i prezzi poi in pochi mesi passarono appunto da 1,04 fino al massimo di 1,25 nel 2018, quindi due anni dopo, però c'è stato proprio un'inversione di tendenza molto molto importante che credo potrebbe succedere anche in questo momento. Grazie. 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 Grazie.